Questa delusione non riesco personalmente a capirla, a percepirla, per un semplice motivo. La squadra credo che col Benevento abbia dimostrato tutto il suo valore, la sua rabbia, la sua identità. I ragazzi erano ben consci di trovare una squadra che ha fatto sullo stesso livello quasi. Queste partite per il futuro sono positive, perché ieri hanno affrontato una diretta concorrente anche per il proseguo dei play-off. E' un ambiente particolare, un ambiente che comunque andremo ad incontrare anche a Vicenza, se sarà il Vicenza, anche a Padova se sarà il Padova. Dovete cercare di essere tutti propositivi vicini a questi ragazzi e non dargli troppa attenzione, perché poi è chiaro che saranno i tifosi ad accompagnarli nel momento opportuno e ad accompagnarli a arrivare questa tanto sospirata e meritata Serebì perché lo merita la città, lo meritano i ragazzi per i sacrifici che stanno facendo, lo merita soprattutto la proprietà e lo merita il mio amico Giorgio.